irriducibili di all games gallia siete ancora qui ma io mi stupisco della vostra irriducibilità ma non perdiamo troppo tempo in queste facezie introduttive e già vi mostro che qualche anno è passato dal video precedente e udite udite un figlio è nato al nostro re e quindi la linea dinastica può essere mantenuta all'interno del seme per così dire del nostro re in carica re che sta diventando vecchio qualche problemi di salute di troppo ma non c'è tempo di stare lì a curarsi perché bisogna conquistare le ultime città che mancano per poter finalmente chiamare l'armorica col suo vero nome col suo vero nome che dobbiamo attribuirle oggi cioè il nome di gallia e vediamo un po quindi di attaccare qualche staterello per scatenare una serie di reazioni che chissà dovrebbero portarci a ottenere quello che stiamo cercando ho assunto già un sacco di mercenari come vedete sulla destra ho sei squadre di mercenari al mio comando sotto il mio comando e ho già dichiarato guerra ai paesi vicini sul fronte orientale come vedete la frisia è di nuovo in attacco nonostante nelle guerre precedenti abbia subito comunque un ridimensionamento e alleata di questi paeselli questi questi territori qua centrali altri stati sono rimasti in posizione neutrale per momento perché ovviamente il nostro scopo sarà conquistare anche quelli anche perché c'erano altre guerre in atto e quindi un po' inconfusionata la cosa però le nostre truppe si muovono rapidamente vedete già le prime vittorie grazie a un morale sicuramente più alto addirittura abbiamo perso 700 truppe contro le 7 mila praticamente della truppa avversaria e quindi tutto inizia nel migliore dei modi come vedete sto mandando delle squadre un paio di squadre anche in frisia giusto per tenerli buoni quei germani che ci aspettano al di là del reno e che sono entrati un po' troppo all'interno dei nostri territori per cui sarà bene ricacciarli indietro qui sto continuando a conquistare la tricassia che era uno stato che un tempo c'era anche abbastanza amico ma quei tempi sono passati ormai da tempo scusate questa ripetizione e però è vero ok qua addirittura il nostro re stava cercando di essere curato è un incidente durante uno dei trattamenti da parte di etitovius magunno l'ha reso praticamente castrato oltre avergli tolto le palle degli occhi gli ha tolto anche un altro paio di sfere in un'altra zona quindi vedete c'è scritto il re guadagna il tratto di castrato per fortuna che il nostro erede è già nato e quindi la successione per il momento non è in pericolo ma chissà che non ci siano delle trame di palazzo per eliminare lo scomodo infante magari vedremo vedremo qui la guerra comunque continua nonostante il nostro re non sia proprio nelle condizioni migliori ma penso di averlo addirittura lasciato al comando della sua armata e quindi vediamo chi potrebbe essere potrebbe essere questo qua in effetti ah no questa è una truppa nemica perché ho visto un 2 come quel numero romano indica la forza del generale in quella armata ecco andiamo a evitare che ci conquistino i nostri territori appena presi allora questa guerra vi avverto subito che sarà un po lunga quindi può essere ad un certo punto tagli il video ma non è detto perché lo sto decidendo ora ora che lo riguardo praticamente come se lo riguardassi insieme a voi e commentandolo in diretta comunque vedete come le nostre forze siano ecco un'altra grande vittoria con un numero di nemici ucciso superiore di gran lunga superiore al nostro ed ecco entriamo anche qua da basso in questa tigurinia se sbaglio tigurnia tigurinia non so che ha preso territori dal noricum che in effetti è messo un po in una situazione peggiori rispetto a quanto non fosse qualche anno fa perché in effetti questi regni a parte roma la frigia e cartagine hanno avuto sempre vita piuttosto difficile crescevano crescevano ma poi le tensioni interne probabilmente fra i vari clan ne li portavano a una rottura dei rapporti interni e quindi alla creazione di staterelli che poi si ribellavano ai loro legittimi proprietari però noi invece gli armoricani siamo stati in grado per anni di mantenere uno stato tribale anche senza tensioni interne purtroppo poi per se vi ricordate una questione di semplice consumo di truppe degli eserciti privati non ho più potuto mantenere lo stato tribale io avrei anche mantenuto sinceramente molto volentieri ma purtroppo il gioco non mi consentiva di fare ciò a proposito del gioco visto che qua la guerra comunque va avanti ma non ci sono elementi molto rilevanti da farvi notare ho letto nei forum di paradox siamo a fine maggio 2019 che tutto il sistema del mana quello che vi dicevo essere stato molto criticato dai fan verrà completamente rivisto verranno tolte le quattro i quattro contatori quattro punteggi che vedete in alto a sinistra quello della milità dei militari civica diplomazia e religiosa verrà sostituita da un potere politico se non mi ricordo male determinato dalla fedeltà che i nostri ministri hanno nei nostri confronti quindi per avere uno stato che funziona i ministri che avremo posto i ruoli di governo dovranno esserci anche fedeli e questo porterà naturalmente a delle decisioni che dovrebbero essere un po più profonde vedremo come sarà perché tanto questa partita verrà conclusa da me con spero almeno di riuscire a farcela con le patch vecchie e quindi senza le novità introdotte con le prossime iterazioni del gioco e detto così potrebbe essere interessante ma in realtà poi come avete visto nella mia partita non è che la fedeltà sia eccessivamente difficile da mantenere se si fanno guerre ben fatte non si danno troppi poteri ai vari capi clan quindi sarà da capire se verranno anche cambiate alcune meccaniche a livello proprio di rapporti fra i vari character fra i vari personaggi cosa dire sono un po curioso secondo me la cosa del mana aveva i suoi pregi i suoi difetti e secondo me forse si poteva salvare anche ribilanciando alcune cose cosa che invece hanno preferito non fare ma vediamo se questo gioco recupererà un po di fiducia da parte dei dei fan dei giochi paradox perché se provate a sbirciare steam vedrete che il voto è molto basso i fan sono un po delusi in effetti come vedete anch'io non ho più l'entusiasmo iniziale perché una volta che abbiamo creato uno stato solido non c'è praticamente più nessuno che ci possa contrastare qua continuano vedete come sto entrando facilmente in questi territori qua perdo sempre più truppe di quelle che sconfigo ad un certo punto quando gli eserciti diventano un po più grandi ma è sicuramente perché non imposto bene le questioni di tattica più sul campo come le corti che attaccano per prime e così via quelle che cercano di fare la l'accerchiamento insomma non ho mai capito bene quelle dinamiche ma gli effetti devono essere talmente marginali perché le conquiste che ho fatto con le mie truppe molto disordinate sono sicuramente di un certo valore anche senza essere stati lì a vedere i dettagli ecco un altro assedio vinto quindi conquistiamo tutto quella regione centrale nella tricassia se non sbaglio ok e quindi vediamo di continuare le conquiste verso est realtà una cosa che però non mi fido tanto a fare per evitare sorprese i momenti di contrattazione per la pace è che probabilmente basterebbe conquistare le città fortificate e quelle che hanno la colonnina di marmo che indica le varie capitali di quelle sub regioni e a quel punto dovrebbe essere possibile richiedere l'intero territorio ai nostri nemici però non non so se sia davvero così non mi sono mai fidato a provare una tattica del genere che è un'altra vittoria bene qua è stata una bella vittoria beh d'altro andremo 22.000 contro 3.600 non so neanche perché si siano messi in campo i nostri avversari una bella vittoria qua in ganuentia una città ecco prendiamo anche queste truppe che erano un po' state probabilmente sconfitte in qualche battaglia che non vi ho descritto alla lettera però ovviamente non è che si può sempre vincere qualche sconfitta ci sta intanto andiamo a prenderci i vari territori anche nelle alpi per aiutarci abbiamo addirittura assunto dei mercenari stranieri cioè che non sono all'interno del nostro territorio e siccome si può fare beh perché non farlo un ottimo modo per un'altra grande vittoria avete visto mille uomini perduti contro il 9.500 dell'avversario più la cattura del generale nemico insomma una bella cosa purtroppo brucezio deve essere morto in prigionia perché vedete che non c'è più l'icona con le sbarre fra gli avvisi al centro dello schermo in alto mi dispiace ma una fine po indecorosa per un grande l'idea militare che ci aveva aiutato nelle battaglie a sud ma d'altronde non ho neanche pensato di usare soldi per cercare di liberarlo nonostante i 68.000 ducati che ora riempiono le mie tasche ducati li ho chiamati avere denari ok è molto bene vedete come le strisce verdi stiano conquistando sempre di più i territori vicini eccolo qua piccolo buite auro aua roses è il nuovo re viva re il re morto viva re ed eccolo qua purtroppo morto di pazzia all'età di 68 anni perché era anche diventato matto il nostro caro re e però adesso ce n'è uno nuovo sacrifichiamo il nostro porcellino per un po di stabilità in più e abbiamo bisogno anche di un nuovo generale ed eccolo qua durazio tautalus che prenderà il posto del re alla guida di quelle truppe vediamo un po il nostro governo nostro governo il nostro piccolo re di solo i due anni con valori ma ancora da maturare però ha una sorella che la sorella sorellastra perché la figlia della moglie precedente del re ok qua si parla di cure che hanno avuto successo però comunque la nostra azione militare non cambia nonostante il cambio di re a fra le novità che saranno introdotte nostro taxi maglust autarus è morto poveretto all'età di 72 anni per troppo lavoro ma volevo dirvi che nelle novità che saranno introdotte più avanti dovrebbe esserci anche il fatto che la creazione di richieste territoriali il claim chiamiamolo così avrà un effetto sulla espansione aggressiva quindi effettuando quella quella manovra nel menu diplomatico otterremo una un malus all'espansione aggressiva quindi direi che è anche abbastanza scontata la cosa è logica quindi un ben fatto a paradox beh insomma ben fatto potremmo pensarci prima ma comunque è piacevole sapere che sarà possibile avere una cosa un po più realistica ecco anche nelle fasi diplomatiche che anticipano la guerra perché adesso è un po troppo facile anche perché i punti diplomazia come vedete sono 2123 non ho neanche bisogno ormai più di pacificare i popoli che sono sotto il mio dominio perché sono stato in grado di con politiche ben fatte sono riuscito ad avere un riscontro positivo da parte delle truppe e dei delle popolazioni scusate presenti nei territori conquistati ok dovrei smettere di registrare questi video a tarda notte perché poi mi perdo in pensieri e non riesco più a fare con un commento decente continua la battaglia e allora siccome in realtà non ci sono grandissime cose da vedere se devo essere sincero io procederei ad andare un po avanti come detto sono andando avanti con la frisi frigi frisia e ad un certo punto vediamo se riesco ad andare a quel punto lì ecco fatto un po di avanti veloce per mostrarvi come lo stato si è espanso verso est vedete guardate qua quanti territori ho conquistato e adesso sto pensando di fare guardate 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 praticamente tutti questi territori sono diventati miei non c'è nessuno che possa contrastarmi anche la frisia è stata quasi del tutto conquistata almeno la parte alti qua del reno se non sbaglio e qui sto pulendo via un po di territori sul noricum mi pare fosse rimasto neutrale perché non c'erano sì esatto non c'erano territori che proteggeva quindi non riuscito a fare le cose mie senza problemi da parte di uno stato piuttosto grande guardate si conquista facilmente tutto quanto adesso l'unico problema è come stipulare la pace purtroppo la pace vedete adesso provo a farle così però se la faccio per tutta l'alleanza non riesco ad ottenere tutti i territori che vorrei perché il worst core arriva solo fino a un certo punto e poi non riesce più a coprire quante le mie richieste praticamente e allora sono costretto a rinunciare a un po di città allora qua cerco di ottenere un territorio abbastanza vasto rinunciando solo a qualche città però faccio un po fatica e adesso qua volevo vedere anche un po come era la questione delle produzioni per capire se c'era qualcosa che potesse tornarmi utile ma in realtà ho talmente tante città che non c'è nulla di così importante da prendere il pericolo commercio che è un'altra parte che probabilmente dovrebbe essere un po migliorata con le patch future quindi non ha senso che io faccia la pace con l'intera alleanza e quindi decido di provare ecco qua per esempio con la frisia apro la diplomazia e vorrei fare adesso non l'ho visto beh perché l'avevo già visto prima quando voi non avete non eravate con me quando ho fatto il fast forward dopo tot mesi si può iniziare a chiedere di fare la pace con le varie fazioni che sono in guerra contro di noi separatamente quindi non devo più farlo con tutta l'alleanza ma solo con alcuni membri e adesso sto aspettando che la frisia inizia a considerare le mie proposte di pace e intanto gli conquisto ancora un po di territori come vedete è una praticamente un debordamento completo da parte delle mie truppe a est quale ricerca continuano cambierà anche il sistema di ricerca e cose del genere anche il sistema delle tattiche militare quello delle discipline adesso mi ricordo come si chiama quello che vengono dopo aver guadagnato abbastanza punti militare sarebbe tipo ogni tot anni forse 20 si ottiene una nuova come si dice tradizione militare non so se sia meglio o peggio ma ok quindi continuano le battaglie qualcuno mi chiede accesso ai miei territori ma va bene così guardate la frisia è completamente nelle nostre mani la frisia almeno quella occidentale un'altra vittoria ma sono solo battaglie che sto combattendo per iniziare a ottenere le paci separatamente ok direi che posso andare ancora un po avanti per mostrarvi come si sarà sviluppata la cosa dopo che avrò conquistato i vari territori con paci separate inutile che stia qui ad aspettare insieme a voi il passaggio del tempo perché come vedete le mie truppe sono praticamente inarrestabili nessuno riesce a fermarci passo dove cavolo voglio guardate tutto verde ormai tutto nostro quindi andiamo un pochino avanti ed ecco qua l'ultimo trattato di pace l'abbiamo fatto e abbiamo conquistato un sacco di territorio allora non abbiamo conquistato la tigurnia completamente tigurinia non mi ricordo come si dice però guardate la frisia praticamente l'abbiamo conquistata tutta a nord abbiamo conquistato tutti quegli stati tranne la nervia che vabbè l'abbiamo sostenuta nella sua ribellione contro la frisia quindi l'abbiamo lasciata in pace per il momento e cosa ci manca ormai ci manca solo di ottenere i territori attualmente protetti o posseduti dal noricum che da grande spauracchio di qualche anno fa ormai ci fa un po' sorridere guardate la rumorica come grande non possiamo ancora chiamarla gallia perché mancano ancora un paio di città adesso non mi ricordo se era una o due a questo punto però praticamente abbiamo solo bisogno di dare un po di tregua alle nostre truppe per poter poi partire in una nuova campagna militare guardate il livello di espansione aggressiva e al centro in alto dello schermo 63 non ero mai salito così in alto ma d'altronde il gioco dice attenzione se si sale sopra il 50 il ci saranno delle conseguenze molto spiacevoli in realtà come vedremo pur avendo un re bambino e le truppe ormai in campo da diversi mesi se non anni in realtà il nostro stato è stabilissimo la gente addirittura è felice anche quelli dei territori appena conquistati sono in generale piuttosto contenti come vedete non ci sono allarmi in alto al centro cioè alcuni personaggi non ci sono leali ma si tratta semplicemente di chi è al momento nelle nostre carceri e quindi non sono sicuramente dei personaggi che ci preoccupano vedete ci sono un po di malus alla felicità delle culture diverse dalla nostra e cose così ma insomma riusciamo comunque a gestire ottimamente tutto quanto anche perché a dirla tutta siamo comunque in territori dominati dal druidismo e quindi la religione non entra ancora nelle questioni di gestione così della sicurezza dello stato ma in generale non credo che possa essere un grosso problema almeno una volta arrivati a questo punto del gioco ok va bene naturalmente i soliti spostamenti di truppe e vediamo di fare un altro passo avanti per riuscire a mostrarvi la grande guerra contro il noricum per ottenere gli ultimi territori che ci servono ad eccoci pronti stiamo spostando le truppe che sono un po rimpolpate addirittura abbiamo un manpower disponibile di 31.500 uomini quindi un'ottima cosa e perché ovviamente mantenendo i nostri eserciti a numeri piuttosto bassi anche i nostri territori riescono a gestire meglio ecco la grande guerra contro il noricum ci sono alcuni staterelli che erano alleati che quindi si sono ribellati ma avevo già piazzato delle truppe per contrastarli eccoli qua vedete ho già qualcuno che gli sta entrando nei territori qua aveva un sacco di truppe ai confini e quindi sarà gioco facile per me entrare a conquistare noricum che comunque era abbastanza impreparato perché vedete che quella truppa lì al centro da 47.000 al morale basso in quanto non si aspettavano mi attacco un po scemamente se devo essere sincero ma ne abbiamo già un po discusso nei video che hanno preceduto questo ok il nostro re intanto è cresciuto all'età scolare per così dire qua facciamo facile preda delle nostre truppe questo piccolo stato di truppa subito presa alla città senza quasi combattere e quindi possiamo lasciare quei territori e dedicare le truppe a qualche altra impresa verso le alpi vedete tranquillamente si avanza buona vittoria ovviamente c'è chi cerca di entrare nei nostri territori a sua volta per conquistarci qualche città ma i numeri nonostante certe cifre piuttosto alte non ci fanno paura qui a sud c'è questo piccolo staterello delle alpi cozzie che noi ci dà un po fastidio perché vedete a questo gruppettino i soldati che si è subito spostato verso sud verso la verso monaco verso marsiglia ci dà un po fastidio ma andremo sicuramente poi a riprendercelo ancora vittorie questi territori sono ancora una volta sotto la nostra dominazione abbiamo stravinto usate sia un po anticlimatico questo video ma d'altronde le battaglie le avete viste e ormai è come andare con un schiacciassassi su una distesa di uova di quaglia addirittura neanche di galina ma di quaglia quindi non abbiamo alcun tipo di tensione in queste battaglie se non guardare le nostre truppe stravincere battaglia su battaglia ok comunque vedete l'invasione del nori come dei territori limitrofi sta continuando un'altra vittoria si stanno ritirando subito una sconfitta non so dove una battaglietta ok qui continuano a rompermi le scatole qua stavo cercando magari di poter prendere degli elefanti o dei cammelli ma nessuno me li vuole dare allora prendiamo un po di vino per dimenticare questa delusione voglio gli elefanti potrei pensare di andare a conquistare cartagine anche solo per ottenere dei dei degli elefanti credo che a quel punto le mie truppe non avrebbero più alcun problema a fare scempio dei miei avversari ecco qua mi hanno conquistato tutti questi mini staterelli ho cittastato e quindi possiamo trasferire le truppe dove davvero serve siamo stati sconfitti beh questo generale in realtà è anche stato molto bravo nelle guerre precedenti però probabilmente aveva troppe poche truppe insomma Colcus Cottius Colcus però abbiamo qua un esercito da 54.000 uomini che dovrebbe riuscire a ristabilire l'ordine naturale delle cose ottimo vedete avanza solite dispute territoriali niente di che una grandissima vittoria guardate che vittoria incredibile abbiamo vinto abbiamo sconfitto 11.000 uomini praticamente perdendone solo mille e catturando persino il loro generale quindi ogni tanto qualche bella vittoria riusciamo a farla anche noi ok tutti i territori di real picozzi sono andati un'altra vittorissima perfetto fratello del capo del noricum capo tribale del noricum quindi non male come bottino di guerra qua stavo cercando già di farla a pace con loro ma è passato troppo poco tempo dall'inizio della guerra che volevo togliermi dalle scatole questo questo staterello delle Alpi Cozzie mi stava andando a conquistare città qua e là ed ecco qua vedete quanti territori mi hanno conquistato addirittura degli stati spagnoli si erano messi a farmi guerra ma come vedete sono subito andato a punirli io ho anche piazzato una nave non si sa mai in realtà ho preso quei mercenari da nord e ho usato le navi per portarli verso i Pirenei strano che quei territori fossero alleati con regni lontani ma vabbè in ogni caso non ci danno troppe preoccupazioni un'altra vittoria finalmente stiamo eliminando tutte le truppe rimaste delle Alpi Cozzie vabbè qua andiamo a un generale un po' di truppe in più non è nulla di male e vedete il Noricum guardate avete visto quanti territori ho preso e qui cerco di conquistare quel forte ma vorrei anche evitare che i nemici andassero a conquistarci le città appena prese in realtà non ho grandi progetti su questi territori per il momento per il momento e quindi questa guerra la sto facendo semplicemente per tenerli un po' buoni qui invece no ho grandi progetti e quindi mi sto muovendo in maniera di conseguenza scusate non manca ormai molto alla mia decisione ho già un 98% di world score so posso tranquillamente chiedere quasi tutti i territori che ho già conquistato sul campo devo prendere quella capitale provinciale ma che dove ci sono 372 truppe ma non è così facile postare le truppe in maniera veloce un'altra vittoria perfetto anche se ho perso un po' troppi uomini passo i Pirenei e quindi andiamo avanti alla purdum potrei pensare di costruire un forte più avanti in realtà devo costruire un forte lungo tutti i Pirenei per rendere una linea inespugnabile tanto già penso oltre anche se per il momento non lo faccio sul serio quindi i Pirenei potrebbero essere semplicemente un rilievo sulla cartina geografica della futura Gallia e niente di più ecco Cotius si è rifatto bravissimo e quindi un bel trionfo al buon Cotius che non ha ottenuto però un soprannome da questo evento un altro assedio vinto eccolo qua perfection sono i 27.000 qua stavo decidendo se dare il lavoro a quell'Euco o al Boius però stavo guardando un po' i valori e sono praticamente uguali quindi vabbè per togliermelo dai piedi gli ho detto ok prenditi sto lavoro e taci voilà un'altra vittoria abbiamo perso veramente troppi uomini come potete vedere sarà difficile mantenere il dominio su quelle città e qua solito problema cosa scegliere che tanto ormai non ci serve quasi più nulla e quindi gli ho fatto culti tollerati in previsione di potenziali conquiste in territori con religioni diverse ok qua stavo ripulendo un po' i territori occupati delle Alpe Cozzie lo stesso di Cassi per questi altri territori qua ok vedete sto avanzando verso quella capitale provinciale mentre le mie troppe ormai sono entrati nella capitale del Noricum insomma hanno preso tutto il prendibile eccoci qua sono rimasto un secondo in silenzio perché vi posso mostrare che in questo caso le Alpe Cozzie abbiamo potuto chiedergli la pace separata ed ecco fatto qua facciamo la solita espulsione dei membri ok qua potevo decidere cosa fare se dargli se prende gli territori oppure prendere solo un po' di denaro e io in questo caso ho deciso solo di prendere un po' di denaro non avevo voglia di espandere i miei territori da quelle parti perché ovviamente una città come le Ciliegie tira l'altra e non mi sarei più fermato fino alla conquista dell'intera Spagna ma al momento preferisco non guardare a questi territori ancora per un po' perché prima vorrei che fossero i Galli a combattere e non più gli Armonicani ok adesso anche con Grimogrin a Grimoglio con Grinario un altro Mimistato anche con loro posso fare la pace separata sto guardando se ho bisogno di nuovi ministri e in effetti lo steward è abbastanza schifoso come valori qua se non sbaglio sto proprio andando a cercare lo steward si qua ero piuttosto stanco quando stavo girando perché non mi ricordavo neanche cosa stavo cercando esattamente però abbiamo trovato Dubnovellaunus Correius che lo rilasciamo gli diamo la membership e lo trasformiamo nel nostro steward per mantenere i conti in regola ok praticamente manca solo ciò che resta della della come si chiama di Gurnia vabbè di quello stato lì anche le vezie era contro di noi ma la prendiamo anche tutta sì perfetto abbiamo tranquillamente abbastanza war score per farlo questi li abbiamo invece uccisi tutti così tanto per per sfizio e anche ciò che resta della tigurini ce lo prendiamo l'avevamo lasciato indietro durante la guerra precedente per non fare salire troppo il war score e quindi adesso invece l'abbiamo preso resta solo praticamente il noricum ecco l'armorica è diventata anche un great power e vediamo sì quindi abbiamo superato le 500 città sotto il nostro dominio e possiamo essere considerati un grande potere con un punteggio di gioco altissimo di 42.229 ovviamente tutti gli altri stati sono ben lontani da noi e ora mi sa che anche un po' del noricum diventerà parte della nostra armorica armorica ancora per poco ragazzi ragazze aspettate ancora qualche istante vedrete wow wow ed ecco le ultime schermaglie sono state concluse ho deciso di non prendere troppi territori ai nostri avversari del noricum gli ho lasciati un po' così un minimo di libertà per il momento come sempre e chissà mai che non decida di andare da qualche altra parte ma prima ci sono cose più urgenti da fare salvare il gioco perché il momento è cruciale guardate l'espansione aggressiva è a 70 praticamente qui ho detto beh vediamo un po' come vanno le cose stavo ancora decidendo probabilmente pensando che in questo momento l'avevo voluto chiacchierare un po' con voi prima di fare qualcosa di grandioso stavo intanto iniziando a controllare come sono messe le truppe nei regni vicini per il prossimo piano d'azione ecco dai muoviti muoviti me di qualche altro giorno fa che hai registrato questo video è anche tempo che tu faccia qualcosa ancora salvi il gioco vabbè ho capito che al momento è topico ma fa in fretta perché chi ci guarda si sarà anche stufando sì abbiamo capito Roma Roma sì ok Roma sta combattendo contro la frigia sta anche vincendo abbastanza bene a meno lì perché il sud sta perdendo invece territori in Egitto ma non è così importante possiamo passare alla fase successiva per favore ok vediamo come si chiama questo volevo vedere se era un great power no solo un major power siamo più grandi di Roma in questo momento ma ci chiamiamo ancora armonica allora bisogna cambiare allo stavo schiacciando tasti a ripetizione una ribellione degli schiavi addirittura a distrarci a sud per fortuna avevo delle truppe già pronte e quindi la ribellione anche lì sarà messa a tacere molto presto ancora prima che riescono a conquistare una sola città in realtà dai 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 scegli una qualsiasi che tanto non cambia perfetto bravissimo ma nel frattempo ho dismesso le truppe mercenari e ho dimostrato pietà nei confronti dei degli schiavi ribelli e in questo modo dovrei evitare nuove ribellioni da parte degli schiavi ok dai dai hai conquistato tutte le città che ti servono quindi manca solo un'ultima cosa da fare sì ecco dai guardati questo nome dai veloce eccolo eccomi eccomi che arriva che arriva su guardate ta da la decisione è verde quindi basta un semplice click un semplice click forza sì lo so che stavo aspettando che finissi di chiacchierare ma ho già finito di chiacchierare per cui puoi avanzare dai premi sto tasto se volete vedere le varie indicazioni sono scritte lì potete vederle anche a schermo quindi un miglioramento di un sacco di cose dai tra cui anche la difesa dei forti più 20% anche la lealtà eccoci qua anche un po' di metal alla fine per dire che siamo finalmente gallia non siamo più armorica e lo scopo di questo video è stato completato ora devo scegliere un po' di politiche per definire meglio questa nuova grande nazione la gallia finalmente chiamata gallia che non è più divisa in partes multiples ma è una sola benvenuti in gallia amici irriducibili di all games gallia e il video questa serie possiamo dire che si conclude qui ma farò un piccolo video bonus alla fine degli anni concessi da imperato roma per mostrarvi come sarà cambiata la geografia dell'europa e forse non solo da qui ad allora però tutto sempre sotto il nome di gallia un grande saluto irriducibili grazie per avermi seguito così a lungo vi apprezzo grazie se vi è piaciuto questo video mettete un like e lasciate un commento non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e se vi va veniteci a trovare su allgamesitalia.net o sui nostri profili social io sono Ojo e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti